A Venafro una palestra polivalente con standard di fruibilità per spettatori e gli stessi atleti finalmente accettabili e comunque all'altezza di una cittadina di 13.000 abitanti. Stiamo parlando dell'impianto sportivo di Via Pedemontana, sul sito del Comune appena pubblicato il bando per la riqualificazione. La dicitura ufficiale reca l'espressione rigenerazione, ma il senso è quello di cui abbiamo appena detto, migliorare dal punto di vista strutturale l'unico impianto di proprietà comunale per lo svolgimento di attività sportive al coperto. Le risorse per la bisogna ammontano a complessivi 535.000 euro attinti dal bando sport e periferie del 2020. Possono sembrare tanti soldi, ma in realtà le cose da fare sono tante e tutte importanti. D'altra parte le attuali e annose criticità per chi si trovi ad entrare per la prima volta in quello che con una beffarda pomposità qualcuno chiama palazzetto, saltano subito all'occhio, in ordine sparso. Non ci sono tribune, agli eventi possono assistere al massimo 100 spettatori, tutti rigorosamente in piedi. I servizi igienici per il pubblico sono sistemati in una location a dir poco improbabile e di complicata fruizione, negli spogliatoi. Ma non è tutto, l'assenza dell'impianto elettrico in alcuni vani ne determina l'inagibilità. Ma l'elenco delle criticità appena proposto non è esaustivo. Per tale ragione il progetto prevede un'ampia serie di interventi. Il primo, neanche a dirlo, riguarda la realizzazione di una tribuna con una capienza da 250 posti e, vista l'attuale situazione al Pedemontana, giova a precisarlo, a sedere. Ci saranno nuovi servizi igienici, naturalmente anche per disabili e, anche questo meglio sottolinearlo, in un'area più facilmente raggiungibile rispetto all'attuale. Tra gli interventi di adeguamento, quelli dell'area di gioco, degli ingressi per pubblico, atleti ed arbitri, si interverrà anche sugli spogliatoi con nuove docce e servizi. Da ultimo, ma non certo per importanza, la struttura sarà dotata di un'infermeria, fungerà da locale di primo soccorso. La ditta giudicataria, a partire dalla data di consegna dei lavori, avrà a disposizione 180 giorni per l'ultima azione degli interventi e, visto lo stato in cui versa la struttura e le difficoltà per i fruitori, non sarà mai troppo presto.